Siamo qui con Marco Gualtieri, ideatore di Seeds & Chips, la prima fiera che mette assieme le start-up che vogliono fare innovazione nella filiera agroalimentare. Dottor Gualtieri, perché questa idea e come mai questo nome? Il nome è perché mette insieme i semi e i microprocessori, i chips, poi in realtà se guardiamo da un punto di vista della finanza e dell'evoluzione delle start-up, il seed è l'investimento che si fa nella fase iniziale di una start-up e poi le blue chips sono le società quotate in borsa, le grandi società quotate in borsa. Il perché è perché l'intera filiera agroalimentare ha bisogno di un processo di innovazione, dall'agricoltura fino a casa nostra oggi grazie alle tecnologie, alla rete, ai device si possono portare miglioramenti che creino maggiore sostenibilità, migliori condizioni economiche, nuovi modelli di business. Quindi è un settore in grandissimo fermento che evidentemente ha motivo e ragione di esistere in questo paese, visto che si parla di cibo e di qualcosa che conosciamo molto bene. Quando si parla di innovazione si parla magari di big data, internet of things, quali sono secondo lei gli elementi che faranno fare al settore i maggiori passi avanti? Allora intanto diciamo che tutti i pezzi della filiera saranno oggetto di processi di innovazione, quindi dall'agricoltura con l'agricoltura di precisione e come dicevo prima fino alle cucine di casa nostra. Utilizzando tante diverse tecnologie o anche un insieme di queste tecnologie, appena detto giustamente i big data, i sensori, i droni e tante altre componenti che o singolarmente o messe assieme possono cambiare i modelli e i modi in cui magari i cibi vengono prodotti o vengono distribuiti o vengono comunicati. Sicuramente l'agricoltura di precisione è il settore a più rapida espansione con le più grandi potenzialità nel breve periodo perché oggi ci sono già dati ed elementi che dimostrano che investire in innovazione nell'agricoltura consente di ottenere sicuramente un miglioramento della sostenibilità, quindi minore impatto ambientale ma anche contemporaneamente nel breve periodo una maggiore sostenibilità economica per il risparmio di risorse che con l'agricoltura di precisione non vengono disperse. Secondo tutte le indagini gli agricoltori sono molto interessati all'innovazione però sono poco proponsi ad adottare l'innovazione. Il trasferimento tecnologico in campo è ancora all'inizio, come si può aiutare gli agricoltori a fare innovazione? Bisogna far capire quali sono gli effetti e quali sono i risultati, però teniamo presente una cosa che l'agricoltura di precisione da un punto di vista tecnico è un settore veramente molto nuovo. Si dice che i primi esempi partono dal 2010, quindi stiamo parlando di un arco temporale assolutamente breve. Evidentemente la curva di crescita di investimenti e conseguentemente di soluzioni è quasi in maniera verticale, esponenziale e quindi c'è l'opportunità per chi innova di conquistare fette di mercato e sicuramente il processo di trasferimento tecnologico con la dimostrazione sul campo dei risultati positivi di sostenibilità anche economica, quindi non solo ambientale, il processo crediamo e speriamo che sia abbastanza rapido. Poi non dimentichiamo che soprattutto in questo paese, ma in realtà è un fenomeno con caratteristiche internazionali, c'è una nuova generazione di imprenditori agricoli che quindi sono molto più portati all'innovazione e all'utilizzo di tecnologie e quindi sicuramente questi saranno i first mover, i primi a muoversi e trascinando probabilmente dietro con le loro esperienze e con i loro casi anche sistemi un pochino più tradizionali. Quindi l'appuntamento è per l'anno prossimo? Dove e quando esattamente? Milano 11-14 maggio al Mico Centro Congressi di Milano, Sitz & Cips, 4 giorni dove start-up ma anche aziende del food, del tech, imprese agricole, investitori e rappresentanti del mondo della ricerca, della scienza e delle istituzioni si incontrano per confrontarsi, per approfondire, per condividere esperienze e opportunità con una caratteristica però internazionale. Già dalla prima edizione abbiamo avuto oltre 20 paesi rappresentati, l'anno prossimo 11-14 maggio 2016 sicuramente avremo molti paesi, molte rappresentanti straniere.